Welcome to Hell Allora, questo qua è quello della serie che dovevo livellarlo, poi vabbè c'è stato il microfono e tutto quanto Quindi l'ho fatto salire, quindi sarà quello per le instanze di Drain Solo che, vabbè, c'ho tre ore di gioco, quindi non so quanto farò Poi c'è il mio guerriero che volevo portare su, solamente che non avendo troppo tempo l'ho fermato a 71 L'ho fatto dal 0 al 71 Poi vabbè, lama morta, questo che è iniziato in live, solo che secondo la gavel live ho deciso di non continuarlo in live Questo è quello che utilizzeremo oggi, vabbè, dopo lo prendremo Poi il mio cacciatore, anche lui dal 0 al 20 Lui, vabbè, inizia il 55, quindi sta apposito e non ci ho proprio giocato praticamente Volevo cancellarlo perché non mi piaceva il nome macetero Perché alla fin fine è solo per la canzone che gli ho dato con la canzone, con il nome Che sarebbe quella che, vabbè Poi vabbè c'è Zoula Alcuni mi chiamano così, oramai Cioè non dico solo Gigi e altri Però anche voi sotto i commenti alcune volte scrivete Zoula E quindi l'ho chiamato così Poi c'ho l'inventiva di un... Dalla pecorella che evoca sto qua Poi il paladino Sempre Taurin Poi vabbè, l'ho morto... Stregone Non ce l'ho voglia Cioè voglio portarlo avanti ma non c'ho il tempo Stessa cosa col sacerdote Però lo che ci penso c'è sacerdote da P.O.P. Non so come sia buono Cioè oddio, è buono sì Però non so come usare Mai usato Cioè proprio sacerdote in generale Allora riuscirò ad ascoltarmi una canzone Perché praticamente sono con le... Con... Le cuffette del cellulare Anche se è collegate all'MP3 Però va bene comunque Le cuff... Le razor E poi vabbè È il Samsung che sta per i fatti suoi Allora Prendiamo Solo... No, no, questa Solo Chavan... Prendiamo lui Ah aspettate Fatemi ingrandire un attimino Adesso per un... Un mese e due Non vorrei giocarci Sinceramente Cioè O meglio Non vorrei giocarci Dopo la fine di questo abbonamento Massimo che Giocherò su i retos server Ma non registrerò Per il semplice fatto Che sono i retos server Il gioco ce l'ha tutto quanto Ma ciò non significa nulla Non è quello originale I giochi originali Non li voglio registrare Giochi non originali Ho detto giusto? Non lo so Non mi ricordo cosa ho detto Salve Eh aspetta che ho ritolto L'audio Mannaggia Era troppo alto L'audio prima Ma è morto il tele... Eh... Quasi si È morto Addio Mannaggia Non si può scaricare L'amp3 Così faccio il mio video Cerchi consiglio? Devo trovare il cavetto Per caricarlo Mannaggia Che tu possa eccellere Nelle tue passioni Che la gru rossa Possa vivere per sé Tre... No sei... Gerni di acquatici Develoci Ah so queste cose che... È fuori dalla mia portata Non posso ancora farlo Non ho energia sufficiente Non ho abbastanza energia Devo avvicinarmi Non sono ancora provato Cioè non voglio prendere la volontà Perché mi sono distrendato Perché non è ancora provato Devo avvicinarmi Allora Poggio mi sono visto È fuori dalla mia portata Non posso affermare Non posso ancora farmi A vedermi tutta la storia di Warcraft Giusto poco Ehm... Bellino Molto bello Infatti prima Non la conoscevo Cioè o meglio In parte non la conoscevo Alcune cose ancora le devo capire Da fordì Chiedrò Alexander È troppo lontano Non sono ancora pronto Questa talità Non è ancora pronta Tipo Perché A Malfurion Lo chiamano Shandu Non lo so Ci sarà una storia Di Warcraft 2 No Non c'ho vai Già nel Warcraft 3 È inguardabile Grapposamente Però Non sono ancora pronto Ti do il benvenuto Dai si è abbinamentata da graffi di Warcraft Avete mai visto Famiglia Amici Cibo Queste sono le cose che contano di più Che cosa Che devo fare Mi fai leggere Spirito dell'acqua Shoo Lo sta Shoo 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 lo spirito dell'acqua Oh che bellino Sono tutti belli Spirito dell'acqua Oh Basta giocare Che bello Pisa ne va Mannaggia questo Oh Mannaggia questo Arrene Eh No Questa abilità Non è ancora pronta Eh Su Vai piano Vai piano Vai piano Vabbè Mi sento un kanguro Ma Oh Troppo Non è Troppo 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 Devo ammetterlo Sembrava davvero divertente Non posso ancora farlo Sembra proprio Che Tu abbia Un nuovo Amico Disciplina E pratica Ci permettono di esprimere il nostro pieno potenziale. Salve, puoi essere il mio corretto, ti porterò la fattorea dai lu. Beh. Quei belli sono i giacchi. Oh, no. La choucho. Oh, va te. Allora. Ne fa tempo. Ne fa tempo. La choucho. La choucho. La choucho. La choucho. La choucho. E' facile, guarda, ma ciò. Che verso fa? Giù, non ti vedo, c'è una balla di fiero. Cioè, non so che potrebbe sembrare una balla, però la balla. Cioè, ma sono in genere. Fattoria dei lu. Solo con te. Ah, chi? Guarda, mi ricchia un po' meno perché mi spacca. Giada, non lo gioca. Ma che finisce? Non lo gioca. Ti do il benvenuto. Che la serpe di Giada ti guidi. Che la serpe di Giada. Che fai a dormire con tutto questo caos? Mi spavento. Seriamente? Cos'è? Ma che cosa è dentro? Le pro... Le pro-ratto? Un croce tra le pro-ratto? Su, serio? Cioè... Sono a tenere, sì, tutto quanto. Ma perché? Non sono ancora pronto. Eh, vabbè. Pure i mobi scemi ci mancavano. È troppo lontano. Non posso ancora farlo. È fuori dalla mia portata. Questa abilità non è ancora pronto. È troppo lontano. Le pro-ratto va fuoco. Non posso ancora farlo. È fuori dalla mia portata. Vabbè. Vabbè. Ecco. Non sono ancora pronto. Questa abilità è ancora pronto. Devo avvicinarmi. Devo avvicinarmi. Salute. Beh, sta ruotando. È fuori dalla mia portata. BAM. 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 Moro. È troppo lontano. Questa abilità non è ancora lontano. Prima devo avere un bersaglio. Però ti prendi rapa invece. Ma cosa? Sai, sai, sai. È ruotando un troppo. Ma perché è sti ruotando a mente? Devo avvicinarmi. Mi serve un bersaglio. Porto. Quindi adesso devo entrare nei caverni. Non posso ancora farlo. Salve. Ok. Voi sapete nulla di qualcosa di ruotando. È troppo lontano. Questa abilità non è ancora. Non sono ancora pronto. Vai. Bum. Morto. La carota è gigante. Questa abilità non è ancora pronta. Ok. Purtroppo. Sono ancora pronto. Oh, è il solito il set. Neri? E' il tocco. E c'è una zucca. ci mancano le erabie non posso ancora farlo parlami delle tue avventure sono un'avventure molto avventurosa grillo guarda sta qui la no questa abilità non è ancora pronta non sono ancora pronto immagino le chiamerò pittard questa abilità non è ancora pronta ah sono proprio così all'aperto non posso ancora lanciarmi non posso ancora farlo allora questa cosa mettiamola in fondo perchè non mi ci trovo proprio ogni volta la clicco per sbagli ma nocci allora una rapa due rape no sono ancora pronto ci sono ancora pronti fai tanto non 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 la ci sono mi ma proviamo abbiamo ti do il benvenuto ma aspetta c'era un'altra missione cosa ti serve? basta così sì sì ma sta girando fluido 17 fps no vabbè è ancora guardabile diciamo uè raggi su non devo avvicinarmi non posso ancora farlo questa amputà non è ancora provata tra l'altro posso correre adesso del mondo del mondo del mondo è fuori dalla mia portata è chi sa è Raxi 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 tutti vogliono i barazzi di cioccolati io invece voglio i barazzi di legno fu così che è solo diventato un castoro mi serve un bersaglio rotolando via è Raxi 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 un altro show un altro Shu no One Spirit di lato che piacere vederti carretto a me posso salire? eh voi non potete salire l'altro è salito mi dispensi su ma devi volare e proprio non potete tu non potevi venire a piedi eh? ma perchè? non mi piace non mi piace tu stai diet tu stai diet tu tranquilli non ti preoccupare non ti preoccupare te lo guardai c'è 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 do где ci stai e che facciamo? Eh, guarda, che cosa? Aspetta, se l'ho visto io che ho attraversato la porta o che cos'altro? Vabbè, sono diventato cercato, fammi mettere gli occhiali, va. Ma questo è già sentito affacciato nel bagnato, tranquillo. Eccoti qui con gli spiriti dell'acqua e della terra. Stai rendendo fiero il tuo vecchio maestro. Oh, eh, eh, scusi. Scusi. Un tornado si è tratto dal nullo. Un tornado? Come torno giù, Romè? Ora che sono tornando su. Eh, vabbò, tornandiamo su. Adesso, vabbè, scusi. C'è un po' di vento. Per brezza mattutina, da questa parte. Sì, ma era un po' più di una brezza mattutina questa. E quello corre, vabbè, tranquillo. E vuoi far interrompere l'episodio, non è? Andiamo avanti. Mannaggia lui. Perché non gli odici. Aspetta. Quello corre. Mannaggia. Aspetta. 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 Che cacchio è quel drago? Za... Zaoren. Hai gli occhi di qualcuno che ne ha passate tante. Sta cominciando la lezione. Dove che... Parlami dei tuoi viaggi. Ti do il benvenuto. Salve. La tua generosità è a me. Ok, sì, basta, basta. Non... Dai, dopo questo video... Diciamo che me ne vado a fermi... Cioè, fermi. Vado di qua. Di quadritorno. Allora, aspetta. Resta. No, eh. Eh, dai. Allora, speriamo che ho sciocato. Che è più bello da vedere. E... Pa, 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 pa. Perfetto. Pe, 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 pe. Proprio questo. Salve. Oh, che bello. Al prossimo video. Ciao, ciao.